Nicola Amodio internato a Mauthausen, Samuel Fagerazzi internato a Zeitan fronte tedesco, Vitruvio Ricciardi internato a Bolzano, Mauthausen, Cusen, Sergio Speciale internato a Münster. Sono stati insegniti oggi dal prefetto Inversini e dal presidente della provincia Peracchini della medaglia d'onore alla memoria nel corso di una cerimonia che avviene proprio il 27 gennaio, giorno della memoria. Questa cerimonia è particolarmente importante e particolarmente sentita. Il dolore privato di queste persone diventa dolore di tutti, dolore di tutti noi, dolore della nostra società e diventa le fondamenta su cui costruire un mondo migliore. Senza memoria non c'è futuro e mai come adesso è importante rinnovare la memoria dei valori sui quali si fonda la nostra Costituzione per poter vincere questa pandemia e risorgere più uniti e più consapevoli che mai. L'onore efficienza è stata istituita nel 2006 per ricordare la Shoale, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e viene assegnata ai militari italiani che l'8 settembre 1943 non aderirono alla Repubblica Sociale Italiana e rifiutarono di collaborare con le autorità tedesche. Mio nonno era commissario di polizia qui alla Spezia e aveva aiutato diverse persone a scappare e a rifugiarsi per non essere catturati ed è stato catturato dai tedeschi e portato in prigionia a Mauthausen e non è più tornato. Ricordi che ho sentito da parte di mio padre stimolati soprattutto da alcuni esponenti della polizia in pensione che hanno fatto anche un libro sulla vicenda di mio nonno e di altri suoi colleghi, anche uno spettacolo teatrale, soprattutto il signor Trani Tarcisio che si è occupato personalmente della ricerca del materiale, si è rivolto a mio padre un po' di anni fa e da lì ha anche avvicinato molto di più il nostro interesse sulle vicende del nonno e fa molto piacere che oggi sia arrivata questa medaglia anche perché qui c'è anche il nipote Michele che è il figlio di mia sorella Margherita che voleva proprio essere qui presente oggi per questa manifestazione e per questo riconoscimento.